Doug dice che sei incredibile con le donne, è un vero don Giovanni. E questo che dice di me? La tua arma segreta con lei. Beh, quello che vedi è quello che avrai. No, Carrie. Ma perché Brian? Non posso, non posso farlo con l'amore di mio migliore amico. Secondo te io dovrei vivere con lo stesso uomo, giorno e notte per sempre, per tutta la vita, e non avere nessun altro? Sì, è chiamato matrimonio. Tu lo volevi quanto lo volevo io, è per questo che sei salita. Ma ora dici che non puoi farla perché hai paura. Hai paura? È soltanto questo. Ma che cazzo ci faccio qui? Sei solo un bigliaccio!